C'è gente là fuori che ha bisogno di te. Sei qui per questo, B. Da retta a me. Da retta a me. Un guidatore non sceglie l'auto. L'auto sceglie il guidatore. È un legame mistico tra l'uomo e la macchina. È un legame mistico tra l'uomo e la macchina. Tu chi sei? Sai parlare? Non ti faccio niente. Come ti chiami? C'è gente là fuori che ha bisogno di te. Sei qui per questo, B. Vedi, B, la musica aiuta a esprimere ciò che senti. Prova questo. Never gonna give you up! Grazie a tutti.